Stanno partendo questo e tanti altri cantieri, quindi stiamo arrivando al dunque di tanti progetti messi in piedi in tanti anni e che però nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vedremo arrivare a concretizzazione, questo come progetti che stiamo portando avanti che riguardano il Porto Nuovo, che riguardano Porto Vivo, insomma mi sembra che si dà un segnale fortissimo alla città che c'è concretezza in quello che si proclama e quello che si dice. Grazie.